Per un direttore di doppiaggio la giornata non è mai finita, ma è il mio lavoro e l'ho scelto io. La consegna si avvicinava. Dovevo dirigere i miei amici prima che facesse gioco. Quell'antico film andava doppiato. Provare, riprovare, infondere coraggio. Sembrava impossibile. Ma ce l'abbiamo fatta. Amaro Mottefrego. Doppiare al nero.